E' stata presentata a Matera la ventesima edizione della Coppa Scirea, storico trofeo del calcio giovanile a cui partecipano società blasonate d'Italia e d'Europa. E' con noi Gerardo Sant'Angelo della ASD Avanti Altamura che è organizzatore di questo evento. Allora Gerardo Sant'Angelo, quante sono le squadre partecipanti, i campi coinvolti a questa edizione che si tiene dal 10 al 18 giugno? Esatto, noi siamo felicissimi di aver organizzato questo torneo perché come ho scritto nella brochure con una lettera al comitato organizzatore e tutto quanto è un sogno che stiamo realizzando perché organizzare un evento come questo è qualcosa che ci porta lustro sia a noi come associazione ma anche alla città di Altamura. Le squadre che arriveranno quest'anno sono 16, addirittura abbiamo delle squadre che per la prima volta arriveranno qui in Italia, una è l'Urawa Gakuin dal Giappone, poi abbiamo l'internazionale di Porta Allegro, però non vogliono che si dica internazionale di Porta Allegro, solo l'internazionale che arriva dal Brasile. Poi abbiamo una squadra georgiana e poi chiaramente le nostre squadre Juventus, Milan, Roma e società di pure settore giovanile, la neopromossa Crotone, il Bari che purtroppo non è stata promossa. I cambi sono nove, si sono divisi tra Puglia e Basilicata, abbiamo Matera, Tursi, Castellaneta, Ginosa, Gravina che per la prima volta si affaccia allo Scirea, poi abbiamo Monopoli, anche lei per la prima volta si affaccia nel torneo, abbiamo un ingresso di lusso che è Taranto, che sta organizzando un grandissimo evento a Cornice e poi chiaramente c'è Matera e ripeto, purtroppo avremmo voluto anche Altamura ma una serie di cose non ci ha permesso di poter fare sul nostro territorio questa manifestazione. Ma ci ripromettiamo che per il prossimo anno faremo diventare, visto che noi per il prossimo triennio dovremo gestire questa manifestazione, di rendere Altamura fulcro del torneo scireale.